Ieri sera contro il Milazzo, vittoria per 5-1 e è stata l'occasione anche per parlare con l'allenatore Vincenzo Montella dei nuovi acquisti e del mercato della sua squadra. La squadra mi piace perché è ben strutturata ed ha una sua identità, però certo le squadre si possono sempre migliorare, anche le squadre che vincono lo Scudetto ci cerca di migliorarle, quindi in questo senso mi auguro, ma del resto ne sono sicuro perché l'ha detto anche il direttore che qualcosa in entrata si debba fare anche numericamente e anche qualitativamente, quindi il mercato è ancora aperto e mi auguro che qualche sorpresa positiva possa arrivare quanto prima. Certo, se poi dovessero arrivare giocatori nuovi sicuramente magari bisogna vedere che storie hanno, che esperienze hanno anche nel campionato italiano, perché se dovessero essere giocatori di campionati stranieri sicuramente ci vorrebbe un po' di adattamento per entrare nei meccanismi del calcio italiano, ma questo è abbastanza evidente come discorso. Sì, sicuramente Silvestre è un giocatore per Catania, è stato super decisivo anche in fase realizzativa, e quindi è una partenza importante, però la società non si è mai fatta trovare impreparata in passato in questo senso, è sempre riuscita a sostituire i partenti. C'è un giocatore di affidamento senza altro, sicuramente non una scommessa in quel ruolo, perché Silvestre era un giocatore importante.